L'evento si svolge un po' in tutta Italia e anche in altre parti della Sicilia. La parte centro-meridionale dove ci troviamo in particolar modo noi, Gela, Niscemi, Serra di Falco, la provincia anche alta della provincia di Caltanissetta, dove le sezioni della Lipu, Serra di Falco, di Caltanissetta, di Naro e di Niscemi, organizzano questi due giorni, in cui il primo giorno, sabato, si terrà nella parte alta della provincia di Caltanissetta, e avverrà questa manifestazione all'interno dove si andrà a visitare il lago di Serra di Falco e questo lago di Serra di Falco nella mattinata e nel pomeriggio invece si andrà ad Agrigento al lago San Giovanni, che è un'altra zona umida dove si potranno svolgere delle attività. E poi la domenica mattina al Biviera alle nove e mezzo e poi nel pomeriggio invece alla Dica di Sueri, perché non dimentichiamo che anche i laghi artificiali hanno una grande valenza. E si potranno osservare probabilmente anche dei volatili mai visti finora? Si possono vedere anche specie che normalmente durante l'anno non si vedono, e quindi può essere interessante per questo, per cui c'è anche un contest fotografico che si farà, e per cui sono invitate le persone a partecipare a questo contest, che ha quattro linee in cui una è quella di osservare e fotografare una specie, che è il torcicollo, che è una specie curiosa, poco conosciuta, è un picchio, il picchio più piccolo, che da noi è abbastanza comune, specialmente in questo periodo perché migra. Normalmente non c'è, però nella migrazione è possibile osservarlo. Un'altra è una specie che non viene rivelata, perché solo all'ultimo si potrà dire qual è, quindi se sarà stata osservata sarà un discorso anche di avvalorare, quindi dare un proteggio maggiore a chi è riuscito a osservarla, quindi è una specie segreta in qualche modo. Poi c'è invece un gruppo più numeroso di ragazzi, e quindi il gruppo più numeroso verrà premiato, e poi invece quello che avrà fatto più osservazione, quindi ci saranno quattro metodi per premiare questi ragazzi, ed è un modo anche per incentivare e avvicinare le persone alla biodiversità, perché questa è una grande occasione di vedere diversità anche ornitologica. Le specie che possono essere di interesse sono ad esempio la cicogna nera, cioè noi c'è una zona dove c'è la cicogna bianca, ne vediamo tante, ma non vediamo cicogna nera. La cicogna nera è questo il periodo in cui è possibile vederla, oppure il raro mignattaio, che è una specie di ibis, che durante la migrazione autunnale prima di lì è possibile vedere, e quindi in autunno qualche animale è possibile, oppure specie come le spatole, qualche fenicottolo può capitare che può esserci anche di passaggio, e quindi può essere anche l'occasione di vederlo.